Ciao, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Jessica e sono davvero una docente di lingua e letteratura tedesca. Insegno anche lingua e letteratura inglese nella scuola pubblica, ma adesso sono 5 anni che faccio solo tedesco e ho insegnato anche lingua e letteratura italiana nella scuola tedesca. Perché questa premessa? Non per sfoggiare il mio curriculum, non c'è niente da sfoggiare, ma semplicemente per spiegare il perché di questo video. Intanto è adattantissimo che non facevamo un video chiacchierata insieme, sarà quasi sei, otto mesi. E siccome so che vi piacciono, anche per interrompere un pochino i video di grammatica, esercizi, eccetera, ho pensato che questo potesse essere il momento giusto. Quindi questo è un video chiacchierata per rispondere a una delle domande che mi sento fare più spesso dagli studenti, dagli amici, dalle persone da voi che mi seguite sul canale e su Instagram. Ovvero, ma tu, Jessica, docente di lingue, come studi tu le lingue o come diciamo le mantieni? Ecco, anche questa potrebbe essere un'altra domanda a cui rispondere. Quindi se avete voglia di ascoltare, vi racconto un pochino quella che è stata, è e continua a essere la mia esperienza. L'ho già raccontato nel video sulla mia vita, sulla storia della mia vita e spesso lo rimarco e poi si sa ormai. Allora, io sono di origine altoatesina, quindi sono nata e cresciuta in realtà bilingue. Può essere anche trilingue perché c'è anche il ladino, però io lo capisco un pochino, però non lo parlo. Le due lingue a cui mi riferisco sono ovviamente l'italiano e il tedesco. A scuola in Alto Adige l'italiano e il tedesco, a seconda che si frequenti la scuola italiana o quella tedesca, vengono studiate come lingua seconda e non come lingua straniera. La differenza è che la lingua seconda è la lingua, la seconda lingua che tu impari rispetto alla tua lingua madre, però si parla, si usa e viva nel territorio in cui tu vivi. Quindi ecco, io sin dall'asilo, se non ricordo male, ho studiato italiano e tedesco e poi comunque vivendo in Alto Adige il contesto è completamente bilingue. Quindi, diciamo, io ho appreso queste due lingue. Parto da queste due perché sono quelle che so meglio e poi vado scendendo. Allora, si potrebbe eroneamente pensare, ok, tu hai imparato queste due lingue fin da bambina e basta, sono a posto, si possono lasciare lì e rimarranno sempre tali. Non è così. Allora, voi mi sentite parlare principalmente in italiano perché è la lingua che utilizzo per andarvi a spiegare la grammatica tedesca. Vi posso dire che quando ho vissuto a Vienna, dove ho parlato esclusivamente tedesco per mesi, dove mi sono concentrata su testi e materiali tedeschi per la mia tesi di laurea, dove gli unici contatti con la lingua italiana che avevo erano quelli con le telefonate con qualche amico. Io sono tornata e facevo veramente fatica a non solo a parlare in italiano ma anche a pensare in italiano. Poi ovviamente dopo neanche una settimana è tornato tutto, però vi assicuro che ho fatto davvero fatica. Può sembrare strano sentendomi parlare, però è stato così. Quindi ecco, questo ha dimostrazione che una lingua va proprio mantenuta. Come vi dicevo, io nella mia vita uso principalmente l'italiano. Quindi diciamo che al momento si mantiene in modo naturale. Cosa succede con il tedesco, con il mio tedesco? È una lingua che ho, una lingua che ho interiorizzato, che è mia, fa parte di me, sono bilingue, però per il fatto che il tedesco in Italia si insegna, diciamo, a un livello principianti, base e poi si va salendo, non si arriva quasi mai a insegnarlo a un livello alto. Sono veramente pochissime le persone con cui faccio un lavoro di questo tipo, quindi di perfezionamento della lingua, quindi dal C1 in su. E quindi questo cosa comporta? Comporta di utilizzare molto spesso frasi semplificate, corrette dal punto di vista grammaticale, ma si tende a semplificare per farsi capire dai propri studenti. E quindi c'è sempre il rischio, utilizzando la lingua in un modo, diciamo così, elementare, di andare a perdere un pochino. E quindi quello che faccio io per mantenere il mio tedesco a un livello alto, madrilingua, utilizzandolo poco a questo livello, è quello di, ovviamente sembra un consiglio generico, però è uno di più efficaci, utilizzarla quando posso, non so, se leggo dei saggi, magari di pedagogia o didattica, li leggo in tedesco. Oppure spesso faccio delle conversazioni con una professoressa universitaria di Monaco, che ormai siamo anche amiche, dove parliamo delle varie tematiche anche per ampliare un lessico magari su terminologie moderne che lei vive costantemente in ambito universitario e io no. Oppure spesso scrivo dei piccoli saggi che lei mi corregge, mi dice guarda stilisticamente, potresti dirlo in quest'altro modo, eccetera. Diciamo questo è un pochino il mio modo per tenere il mio livello di tedesco a un livello alto. Allo stesso tempo però mi curo di mantenermi anche aggiornata sul contrario, non sul livello di tedesco universitario dei saggi, dei grandi discorsi, ma anche sul tedesco vero, quello parlato, lo slang, lo slang giovanile. Come faccio? Anche qui utilizzo i mezzi a mia disposizione che sono i social network, quindi seguendo magari delle persone che parlano di argomenti di tutti i giorni, che possono essere qualsiasi cosa. Ma la cosa interessante sono i commenti, i commenti delle persone. Le persone non si curano spesso di scrivere in modo perfetto, ma è proprio lì la fase interessante, andare a vedere il linguaggio colloquiale tedesco, appunto le abbreviazioni, insomma tutto quello, tutto il modo di interagire delle persone che magari non si stanno curando della perfezione linguistica. Trovo che sia molto interessante anche osservare questa parte della lingua. Per esempio mi sono accorta che molto spesso non ci sono le inversioni, molto spesso alcune desinenze vengono omesse, eppure la conversazione va avanti lo stesso, ma non come fossero degli errori. Quindi è interessante questa evoluzione. Quindi ecco, il consiglio che vi posso dare, se avete una conoscenza di una lingua a livello madrelingua o molto molto alto, seguite questi due filoni. Quindi un filone aulico, chiamiamolo così, quindi dove andate a lavorare sulla perfezione linguistica, l'altro anche però sull'evoluzione della lingua, sulla semplificazione, sull'adattamento della lingua usata quotidianamente. Ecco, allora ho voluto iniziare da queste due, diciamo dall'italiano e dal tedesco, perché sono lingue che io, sì, in un modo o nell'altro mantengo. Ecco, non devo andare a studiare, ma mantengo. Invece il mio modo proprio di studiare, imparare una lingua, diciamo da zero, avviene in modi diversi. Prima di tutto io non studio mai le lingue allo stesso modo, perché, non lo so perché, ma penso che ogni lingua vada studiata in modo diverso. Ovviamente le cose di base, quelle sono quindi la grammatica, le variabilità, l'apprendimento di una lingua, quelle sì. Però vada studiata in modo diverso, a seconda della lingua, a seconda dello scopo per cui tu studi una lingua e a seconda, sempre questo a mio avviso, secondo la mia esperienza, dell'esperienza, del rapporto che tu hai con questa lingua. Facciamo un esempio concreto, anzi ne facciamo tre. In Alto Adige all'epoca non si studiava lingua inglese. C'era in alcuni indirizzi come lingua straniera, ma per esempio io sono arrivata fino alla fine dell'istituto magistrale che ho frequentato senza aver mai studiato inglese, né alle elementari, né alle medie, né alle superiori. Quando poi mi sono iscritta a Milano, a lingua e letteratura straniere, ho avuto ovviamente il trauma. Non solo perché io non avevo mai fatto, mai studiato inglese, ma anche perché il livello di inglese universitario a Milano era altissimo. Perché ho deciso di studiare inglese? Per due motivi. Uno mi piaceva tantissimo, mi piace tuttora, mi piace tantissimo il suono della lingua inglese e soprattutto amavo tanto la letteratura inglese che però fino a quel momento avevo letto solo in italiano. L'altro motivo è perché mi sarebbe piaciuto tanto diventare docente d'inglese. Quindi abbiamo parlato dello scopo. Questi erano i miei due scopi. Quindi il mio studio doveva essere particolare, nel senso, uno, prima di tutto ho finalizzato a superare gli esami, perché ero lì per quello. Poi leggere tantissimo, perché se volevo iniziare a leggere i classici in lingua avrei dovuto imparare a leggere in inglese. E poi, ma questo successivamente, ho ricostruito io la grammatica inglese, perché chiaramente a scuola l'avrei dovuta insegnare. Quindi diciamo che io l'inglese l'ho appreso prima in un modo emozionale, diciamo così, e poi sono andata a sistemare dopo la grammatica per poterla insegnare, perché non avevo mai studiato inglese. Quindi tutta la grammatica non ce l'avevo. Parlavo e leggevo, parlavo correttamente, ma non avevo le strutture, non sapevo spiegare le strutture. Quindi ecco, per me l'inglese è proprio una lingua dell'emozione, rappresenta un qualcosa di esotico, di diverso dalla vita che avevo avuto fino ai 18 anni. E quindi ho iniziato a studiare inglese a 18 anni. All'università, quindi catapultata subito a un livello che non era il mio, perché io ero assolutamente principiante. Ci ho lavorato su, molto. Però avevo molta passione per questa lingua. Come ho detto prima, una curiosità, una passione fortissima. E quindi ho iniziato. Insieme agli esami da preparare, che erano magari su varie tematiche, come ho detto prima, facevo anche un lavoro parallelo. Quindi mi sono presa una bella grammatica di base di inglese e ho iniziato proprio dalle basi, dai pronomi, dal verbo essere, dal verbo avere. Questo. Avendo già una testa, diciamo, bilingue, per me era facile anche andare un po' a sviscerare la lingua. Nel senso, magari legge una frase con delle costruzioni particolari, con il conditional, queste cose qui, andavo poi a cercarmi io da sola la regola per capire come era stato creato e come crearlo a mia volta. Quindi io facevo questo esercizio di questo tipo. Quindi ecco, per riassumere, il mio studio dell'inglese è stato a partire da 18 anni all'università, ma non con un corso sistematico, ma buttata subito in un livello alto. Il lavoro intorno l'ho fatto io, da sola. Poi ecco, la cosa bellissima è stato l'ambiente universitario e mi sono trovata veramente bene. E la cosa bella è che appunto io aiutavo le persone con il tedesco, per cui praticamente non ho mai studiato, perché ce l'avevo già. E loro aiutavano me in inglese, quindi è stata anche un'occasione di scambio lo studio dell'inglese. Come lo mantengo adesso? Diciamo che mantenere la lingua inglese è un pochino più facile rispetto alle altre, perché hai tantissimo materiale a disposizione. Quindi faccio quello che fanno tutti, guardo le serie tv in lingua originale, senza sottotitoli, continuo a leggere tantissimo, quando posso lo uso. E da quest'anno ho deciso di regalarmi una piccola cosa. Allora, fra i vari inglesi, i tipi di inglese, no? Ah, quello americano, quello british, lei, i prof, quale insegna, quale preferisce, eccetera. Allora, quando insegno, diciamo, uso l'inglese british. Però ecco, adesso è da un po' che non lo insegno. Mi piace molto l'inglese americano, perché le serie tv usano l'inglese americano, quindi è interessante lo slang, l'accento, mi piacciono molto anche quelli americani. Però io ho una grandissima passione per l'irlanda e per l'accento irlandese. Quindi ho ufficialmente deciso che voglio avere un accento irlandese. Attenzione, non quando insegno, lì continuerò a usare il mio inglese standard, diciamo così, però proprio per una cosa mia. E quindi alle via di podcast, video, serie tv, addirittura faccio anche lezioni private con insegnanti irlandesi. Perché mi piacerebbe proprio avere quell'accento, poi a parte che sono appassionatissima anche di tutta la cultura, la letteratura irlandese. All'università io mi sono specializzata soprattutto nella storia, nella letteratura irlandese, quindi la conosco molto bene. Anche la terminologia, le cose, quindi mi piacerebbe fare questa full immersion nel mondo irlandese. Ecco, però questa è una mia passione, cioè non c'è uno scopo. E quindi ecco, scopo in questo momento di questo mio studio dell'inglese orientato verso lingua e cultura irlandese. Nessuno. Passione personale. Anzi, se avete canali YouTube, cose varie, Irish, da consigliarmi, scrivetemelo pure nei commenti, mi fareste voi un favore. Passiamo alla quarta lingua che parlo ed è lo spagnolo. Allora, lo spagnolo l'ho imparato per la prima volta all'università come terza lingua. Mi sono iscritta a ispano-americano perché mi piaceva moltissimo la letteratura ispano-americana. Anche quella l'avevo letta però solo in italiano e quindi siccome sognavo di leggerla in lingua originale, niente, ho fatto lingua letteratura ispano-americana come terza lingua all'università. Ovviamente parlando italiano, lo sapete bene, lo spagnolo risulta molto facile per quanto riguarda la comprensione di base e le strutture grammaticali. Quindi, diciamo, lo spagnolo è abbastanza accessibile. Il problema è quando si comincia a salire di livello. Adesso, se vuoi parlare lo spagnolo a un livello alto, allora lì sì, devi studiare. E quindi l'ho studiata all'università, ispano-americano, e poi quando potevo andavo in Spagna e cercavo di utilizzarlo il più possibile, proprio parlare con la gente, andare in giro, chiacchierare, leggere, fare tutto proprio nel posto, essendo la Spagna abbastanza avvicina. Poi anche, insomma, molto piacevole andare in vacanza in Spagna, soprattutto d'estate, e quindi lo utilizzavo proprio lo spagnolo, lo vivevo sul territorio. Essendo una terza lingua, diciamo, gli esami non erano tanti, ne ho fatti due, quindi il materiale l'ho preparato in vista degli esami. Avevo un libro di grammatica di base, avevo i libri di letteratura, avevo i libri di critica, di letteratura, e ripeto, quando hai una base italiana è molto facile leggere e capire lo spagnolo. Ovviamente poi sono dovuta andare a lavorare sulle cose di livello più alto, quindi a leggere i saggi, insomma, non è sempre facilissimo, ascoltare le interviste, ascoltare le conferenze, quello aiuta moltissimo. Prima di tutto perché le persone parlano in modo molto veloce, quindi ecco, a volte è pochino difficile anche distinguere bene le parole, soprattutto sono parole che non conosci, parole difficili, quindi ecco, quello può essere un buonissimo esercizio. Io ascolto tantissimo, ecco, questa è una cosa che faccio in tutte le lingue, ascolto moltissimo le interviste. Su YouTube trovate praticamente di tutto e sono molto interessanti perché comunque lì le persone parlano a ruota libera, spesso fanno battute, raccontano cose, quindi è un modo interessante, secondo me, ascoltare le interviste per entrare dentro una lingua. Io lo faccio spesso con lo spagnolo. Adesso perché sto continuando a studiare lo spagnolo? Prima di tutto perché mi piace, voglio mantenere questa lingua e poi perché è una delle certificazioni che non ho, mi piacerebbe provare a fare la certificazione C1 di spagnolo. Però ecco, anche lì bisogna lavorarci sopra, probabilmente adesso quest'anno non ce la faccio perché ho già veramente troppe cose, ma conto di iscrivermi a un corso mirato per lo studio della preparazione alle certificazioni, ecco. Anche dello spagnolo mi piace molto il suono della lingua, è proprio bello, è un bel suono. Nel frattempo, quando posso, faccio un'ora di conversazione alla settimana con un docente spagnolo. Dato che non ho occasione in questo periodo di andare in Spagna, è un buon modo, secondo me, per mantenere la lingua. Lui è proprio un docente, quindi va anche a correggermi gli errori che fanno gli italiani. Perché spesso quando si parla lo spagnolo, a un certo punto il nostro cervello butta dentro parole italiane e non sai bene se stai parlando italiano o spagnolo quando non lo parli spesso. E quindi questo è un buon modo di parlarlo con una persona madrelingua che ti dica, no, guarda che questo è italiano, attenzione. Allora, ovviamente, essendo un'insegnante di lingue, sono un pochino facilitata nel andare a scovare le mie debolezze e i miei errori. Io dico sempre quando fate gli esercizi che mi dico, no, prof, ho fatto due o tre errori. Gli errori sono proprio il modo per andare a testare dove lavorare. Lo so che è bellissimo far tutto giusto, lo so, è una bellissima sensazione, wow. Però quando c'è l'errore ti aiuta a non perdere tempo. Perché spesso, credetemi da studentessa lo facevo anch'io, è molto bello ripetere e studiare cose che sai già danno molta soddisfazione, ma come sono brava. In realtà è proprio l'errore che ti fa capire dove devi andare a lavorare, dove non perdere tempo. Ad esempio in spagnolo l'utilizzo del subcontivo è molto simile a quello del congiuntivo italiano, ma non è uguale. Quindi quando faccio gli errori mi accorgo, ma anche da sola se faccio degli esercizi, mi accorgo che magari tendo a mettere un'impostazione italiana nella struttura della frase spagnola perché è simile, ma in realtà non è così. E quindi sbaglio, mi arrabbio, dico ecco ho sbagliato, però dico no, ok, forse devo andare a rivedere bene le differenze. Quindi non perdo tempo a ristudiarmi tutto il subcontivo, eccetera, ma vado a vedere il nodo che si è creato che mi fa sbagliare perché vado a inserire una struttura italiana. All'inizio mi capitava anche tanto con l'inglese, con l'inglese invece andavo a mettere strutture o particolarità della grammatica tedesca avendo quella dentro. E quindi i professori mi dicevano sì, è sempre una lingua germanica, però attenzione che questa è una caratteristica del tedesco, in inglese non puoi dirlo, non puoi farlo. Allora andavo a lavorare così. Ok, finora vi ho parlato delle quattro lingue che conosco, le mie due lingue nati, diciamo così, che sono in italiano e in tedesco, di come le mantengo, dell'inglese, del mio percorso con la lingua inglese imparata da 0 a 18 anni e di come adesso io voglia dare alla mia conoscenza linguistica un'impronta irlandese e dello spagnolo, di cui lo scopo in questo momento è, oltre a mantenerlo, perché mi piace, diciamo orientarmi verso una certificazione linguistica C1. Però non è finita perché ho un'altra idea che, credetemi, non so quando avrò il tempo di farlo, ma va bene, mi piacerebbe tantissimo imparare una delle lingue della Scandinavia. Sono tuttora molto indecisa tra il danese, lo svedese e il norvegese. Allora, un pochino ho una vaga idea di come siano, perché quando andavo all'università c'erano gli altri miei studenti, gli altri miei compagni che studiavano queste lingue. Quello che sto facendo adesso, l'ho detto anche in un reel, sui podcast, quello che sto facendo adesso è familiarizzare un pochino con le lingue, visto che non ho nessuno scopo, cioè non è che devo fare un esame o trasferirmi in Norvegia, purtroppo. Quindi ecco, me le ascolto sui vari podcast, mi guardo qualche video. capisco abbastanza, perché sapendo il tedesco e l'inglese si riesce a capire, però ovviamente da lì a dire di sapere una lingua, ma ne passa tantissimo. Devo dire la verità, così a istinto sono molto portata verso il norvegese, proprio mi piace, mi piace molto. In tanti mi consigliano lo svedese, in pochi mi consigliano il danese, però non è che mi dispiaccia nemmeno quello. Quindi ecco, sono ancora in fase di decisione, poi una volta che decido prendo parto e incomincio a buttarmi nello studio della lingua. Anzi, se avete dei consigli da darmi in merito a quale delle tre lingue scegliere o se avete da consigliarmi, non lo so, canali, podcast a riguardo, scrivetelo nei commenti che sarò ben felice di leggerli. Ecco, questa è stata una chiacchierata, come vi ho detto all'inizio, e ovviamente riguarda la mia esperienza di persona che ama le lingue, di studentessa di lingue e di docente di lingue. Ovviamente le cose cambiano in base allo scopo di una lingua, a tantissimi fattori. Quindi ecco, per me l'italiano, il tedesco e l'inglese sono lingue con cui lavoro. Lo spagnolo è una passione che voglio trasformare in una certificazione e le lingue della Scandinavia, anche quelle sono una passione, quindi posso avere dei tempi molto più rilassati, ecco, nello studio. Come ho detto in tantissimi video, le cose cambiano se si studia una lingua per lavoro, se si deve ottenere un certificato, se le lingue non piacciono ma si devono studiare o, al contrario, se le lingue si studiano per amore, passione per la lingua, per il posto dove si parla, per una persona. Quindi cambia molto la modalità di apprendimento di una lingua in base a questi fattori. Ecco, mi piacerebbe davvero saperne di più anche di voi, sui vostri studi, cosa state studiando, quali lingue state studiando oltre al tedesco, magari perché se siete qui state studiando il tedesco, ma magari ne state studiando altre, o se avete intenzione di studiarne altre. Mi piace molto la condivisione di idee e esperienze sullo studio delle lingue. Intanto vi auguro una buona giornata e, come sempre, bis bald!